Buongiorno a tutti, Città Metropolitana di Torino è presente in questo evento organizzato proprio in virtù di una festa europea delle città metropolitane, una ricorrenza importante dove Città Metropolitana vuole ricordare il proprio ruolo, il ruolo delle città metropolitane in Europa e soprattutto quello che sono i punti essenziali per poter fare politica metropolitana sul territorio. Quindi azioni legate ai parchi, al controllo, alla vigilanza ma soprattutto a mantenere quel presidio importante che un ente come il nostro deve poter offrire agli enti che ne fanno parte e non solo agli enti ma chiaramente anche ai cittadini. Un momento importante per Città Metropolitana dove poter ribadire il proprio ruolo all'interno di uno scacchiere europeo importantissimo come quello della promozione e della difesa del territorio e quindi della natura, dei parchi. Un ruolo che Città Metropolitana ricopre quotidianamente attraverso le proprie professionalità e che vuole mettere in evidenza attraverso questi eventi che sono un momento di condivisione e di restituzione per tutti. Città Metropolitana